Disinformazione sulla guerra tra Israele e Hamas si diffonde sui social media. La disinformazione sulla guerra tra Israele e Hamas si sta diffondendo sui social media, con immagini e video falsi o manipolati che vengono condivisi da migliaia di utenti. Una delle immagini più diffuse è quella di un edificio distrutto, che si dice sia stato colpito da un bombardamento israeliano. Tuttavia, l'immagine è in realtà quella di un edificio distrutto a Gaza nel 2014. Un altro video ampiamente condiviso mostra un gruppo di uomini palestinesi che vengono uccisi da soldati israeliani. Tuttavia, il video è stato modificato per rimuovere il contesto, che mostra che gli uomini stavano in realtà attaccando i soldati israeliani. La disinformazione sulla guerra tra Israele e Hamas è preoccupante perché può contribuire a incitare all'odio e alla violenza. È importante essere consapevoli di questa disinformazione e verificarla prima di condividerla. Ecco alcuni consigli per verificare le informazioni sui social media. Controlla la fonte. Da dove proviene l'informazione? È una fonte affidabile? Controlla la data, l'informazione è aggiornata? Controlla le immagini e i video. Sono reali? Sono stati manipolati? Se sei dubbioso, non condividerlo. È inoltre importante ricordare che i social media non sono reali. Le persone possono presentare una versione distorta della realtà sui social media, quindi è importante essere critici e non credere a tutto ciò che si legge o si vede.